E' la quarta edizione ma è già un appuntamento fisso. Anche quest'anno Vietri sul Mare ha ospitato il Memorial Michele Siani in ricordo di un medico straordinario. Un'occasione di riflessione ma anche di svago e cultura. Il direttore dell'Unità di Igiene Pubblica dell'Asla di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, ha ricevuto il premio Prendersi cura con il sorriso, mentre il riconoscimento speciale Giovanni Battiloro, il videomaker morto nella tragedia del Ponte Morandi, è stato conferito al giornalista Nello di Costanzo. Il professore Paolo Ascerto, direttore dell'Unità di Oncologia del Pascale di Napoli, è stato invece insignito della cittadinanza onoraria di Vietri sul Mare. Ma è un onore diciamo, già l'anno scorso ho avuto l'onore di ricevere un premio e ovviamente una cittadinanza onoraria di una splendida città, una diciamo delle città più belle che abbiamo in Campania, una perla del golfo è un qualcosa che può far solo che piacere. Posso freggiarvi di questo onore di poter essere chiamato cittadino di Vietro. L'hotel Bristol ha invece ospitato la tavola rotonda sul vaccino anticovid e il futuro che ci aspetta. Un momento di riflessione sulla pandemia con luminari della medicina, tra cui il componente della Commissione Tecnico-Scientifica Nazionale Donato Greco, il direttore scientifico del Pascale, Gerardo Botti, ed il direttore della medicina interna dell'Asda Salerno 3, Vincenzo Patella. I lavori sono stati moderati dal responsabile scientifico del premio, Domenico della Porta.